Ciao a tutti carissimi amici miei, bentornati a Yu-Gi-Oh Minimino Duels, ecco che affronteremo un Bastion Misaba. Allora, spero che questa volta riusciano a battere con il deck di cristalline, perchè l'altra volta stavo vingendo però per lo sbaglio di una carta magia, che sarebbe appunto anzi cristalline, ma ha fatto sbagliare, cioè non ho letto bene sui campioni sbagliate. Allora, tornando a noi, il Bastion aiuta subito le mostre potenti di sovrano, con dei draghi, guarda, pazzeschi. Adesso vediamo se riusciremo a battere una notte. Ok, ecco, io ho scoperto il cristallo, e rubiamo questo cristallo per un punto dei rubini. Allora, stati ancora Non c'è il gioco non c'è un po' di un po' di un po' di un po' non c'è un gioco Qui trovense a le... Stai a le pomme spari... Allora, forse ti vai dann per il istante... ...dia a non fà... ...dicchias per il che veloci... ...dicchia... ...dicchia di stare, dicchia di ciò... ...dicchia di stare... … cose cose che hanno per attrauta bene Certo, non ho messo mai certo. Certo, non ho messo mai certo. Oh, no, no, no. la combattente grosso Grazie a tutti. 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 E' tutto blu. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti.